Nel Consiglio Comunale del 21 ottobre l'Aggiunta ha discusso anche di un argomento che ha creato proteste malcontenti, ovvero la creazione di un punto di raccolta di rifiuti urbani in località Malagenia. La proposta è stata votata e approvata, con l'opposizione rappresentata dai consiglieri Abbate e Botticchio, che si è espressa votando in modo contrario, ma nonostante ciò è stata resa esecutiva. Ma secondo l'opposizione rimangono numerose ombre sulla creazione di questa opera pubblica e sulla modalità in cui è arrivata l'eseguibilità. Infatti, durante il Consiglio, il consigliere Abbate ha preso parola ed ha messo in evidenza tutti i suoi dubbi, ma anche quelli dei cittadini. Abbate ha prima polemizzato sul silenzio assenso attivatosi dopo 90 giorni della regione su quest'opera, che quindi ha dato il lascia passare senza conferire parola. Poi ha criticato la localizzazione di quest'area, parlando sia delle pericolosità della zona, sia del perché stata localizzata proprio lì. Nell'area e località Malagenia, dove dovrebbe sorgere l'isola ecologica, infatti, sono presenti abitazioni vicine numerose tubature dell'acqua, problema pertinente di quella zona. I dubbi, sempre secondo Abbate, rimangono sul perché piazzare lì quest'area di raccolta rifiuti, data la lontananza dal centro città e dato il percorso inverso che devono compiere i rifiuti per arrivare alla discarica finale di Battipaia. Infatti erano disponibili altre due aree, oltre questa, più vicine al centro, una nelle vicinanze del cimitero e un'altra nei pressi della strada statale 18. Permangono dunque i dubbi, ma la creazione dell'isola ecologica viaggia spedita.